La Carpegna Prosciutto Basket Pesero chiude al meglio il suo 2021, con la quarta vittoria nelle ultime cinque partite giocate e con un altro finale trilling che questa volta la premia e la porta a vincere 89-91 in casa dell'Eppi Casa Brindisi. Finale col brivido perché sulla sirena finisce sul ferro la tripla di Perkins che avrebbe significato sorpasso nonché la seconda sconfitta consecutiva all'ultimo secondo. E invece no, e francamente sarebbe stato troppo per una VL che si prende con merito la vittoria al termine di una gara emozionante e incerta in cui i biancorossi hanno ragione di Brindisi venendo presi per mano dalle prestazioni di Lamb e di Jones oltre ad un ottimo Zanotti. Banchi si prende due punti d'oro ma non si accontenta reclamando più cinismo per il futuro. Portiamo a casa una vittoria preziosissima frutto di una prestazione a tratti molto consistente alla quale non siamo stati capaci di dare continuità soprattutto nei due momenti chiave nei quali Brindisi è stata brava a rientrare dopo aver accumulato nove punti di svantaggio nel primo tempo e poi un altro mini parziale nel secondo che sembrava aver indirizzato la partita. Le parti del gioco dove siamo mancati più sono sicuramente i rimbalzi dove abbiamo concesso ai nostri avversari troppe seconde opportunità e su quelle sono stati bravi a costruire le loro rimonte e poi nel finale a decidere sono stati episodi legati all'eccellente intercetto di Jones sulla loro rimessa purtroppo rischiando di vanificare tutto quanto fatto con una gestione scellerata degli ultimi secondi bene la nostra precisione dalla lunetta e in generale ho detto una buona presenza purtroppo non espressa con quella continuità e con quell'attenzione che sarebbe servita per tenere a distanza una squadra come Brindisi che non dimentichiamo stasera faceva meno di Adrian ma resta una squadra che ha grande talento. Partita importante quella di Brindisi non solo perché la VL ha vinto ma anche per il semplice fatto che ha potuto giocare. Quella di Brindisi è stata infatti l'unica gara disputata su sette previste a Santo Stefano. Per il resto i contagi da Covid-19 stanno stravolgendo il calendario ad ogni latitudine risparmiando in questa occasione solo l'incrocio fra Brindisi e Pesaro e quello fra Treviso e Brescia in campo nel posticipo del 27 gennaio. Covid che ha messo lo zampino pure nel volley facendo rinviare a data da destinarsi il match inizialmente previsto a Santo Stefano della Megabox che doveva scendere in campo a Roma ma che ha visto arrivare lo stop per casi di positività fra le capitoline dell'Acqua e Sapone. Ed è arrivato oggi anche lo stop per l'Ital Service che doveva essere il 28 dicembre in campo a Ciampino contro la Niene ma la gara di campionato è stata rinviata per alcuni casi di Covid-19 emersi nella squadra laziale. L'Ital Service tornerà dunque in campo il 4 gennaio a Eboli in occasione della gara di Supercoppa.